Questo che vedete è un mattone, vabbè un mattone che notizia può fare, un mattone, e un mattone vuol dire molte volte cemento, edifici, no, questo mattone in questo caso vuol dire demolizione. Ci hanno segnalato una cosa incredibile che è accaduta in questa città che in realtà ci mancava, tra le cose che noi riusciamo a sapere. Allora, se il nostro caro amico cameraman si gira, vedrete che ci manca una fila di mattoni e là ce n'è rimasto qualcuno che sono stati rubati, sono stati rubati i mattoni per portarsi a casa, chissà che cosa ci volevano fare, qualcuno ha fatto la battuta, una casa no, ma uno sgabuzzino, un recinto e ce l'hanno fatto. Ecco uno dei mattoni superstiti che abbiamo appunto adesso inquadrato, eccolo qua, ma adesso lo lanciamo ovviamente, ma non basta, i vandali hanno fatto altro, non è che ci sono rubati soltanto i mattoni, guardate un po' questo qua, questo doveva essere un palo con delle luci molto belle inizialmente, non c'è rimasto più niente, non solo hanno rubato le luci, ma hanno rubato anche quello che era il rivestimento in ottone credo, perché lo possiamo vedere da lontano com'era un palo vero, anche quello ovviamente senza luce, quindi hanno rubato molti mattoni, hanno spogliato i pali tutti delle luci e qualcuno l'hanno spogliato anche della copertura in ottone, per non dire poi come viene tutelato il fatto dell'acqua, qualche mattone è stato messo qua, però ovviamente le griglie non funzionano e quindi c'è il pericolo allagamento verso il sud. Questa è una zona vicino al mercato coperto, ormai l'abbandono qui è totale e l'abbiamo già visto con altri servizi, ma che si rubassero i mattoni per portarli a casa e poi spogliassero completamente i pali della luci, beh questo in realtà ci mancava.